Fermate, aspetta! Pronto, vuoi così? Ah, dici, non lo senti, io protesta! Aspetta, eh! Mamma mia! Aspetta, eh! Ma no, mettilo qui così! Eh! Fa un po' di cartonino, faccici così da te! Non so tanto fare! Mamma mia, se t'abbicini... Eh sì, la parte della messa! E dove vuoi questo registrare? Se t'abbicino... Vai, vai! Oh, vuoi arrivare il vetto? Francesco, torni un attimo più basso, per fuori! Ma non hai la riga di sopra? Si ha sbagliato! Un po' passenti mente che cosa ti hai scattato? No, no? Eh, Antonio! Non ci ho preso! Più basso! Metti quella scattiva! E' un po' di scattiva! E' un po' di scattiva! E' un po' di scattiva! Che cominci a scattavare laggiù, capito? Ok! Allora! Eh?! no 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 why would they head to this thing? in Chile once he continues if he is actually like our function Non c'è un'altra cosa, ma non c'è un'altra cosa. Ci raccoglie ai soli brush, dai. Sì, quello che ho fatto. Tu la capo? Tu hai un po' tanto il capo? Eh, tanto io dovevo apposta, ragazzi. Che non gli resta, lì dove ho apposta. Che non gli resta, lì dove ha apposta. Non lo so, non lo so. No, no, che non lo so. Ma sai che c'è? Però non lo so. No, nemmeno, nemmeno. Eh, no, pure lì, non lo so. No, vabbè, ci ho visto bene, perché stanno in persone. Ma sai che c'è? Allora, è la regola dell'amico. Io mi cago sotto a fare queste cose perché ho un montato. Quando prendi i modelli dell'arte non te ne frega un cazzo. Ma quello se te, non è così. In genere è il contrario. In teoria, se tu ti dimenticare, ovviamente tu hai la tarra di studiare. Sì, però ho capito, le fai queste cose. Però ho fatto quelle cose, no, perché è preciso. Cioè, perché vedo che in un momento rimane. Ahhhh! Quello che cagava, ragazzi. Cari, ragazzi, dai, 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 dai.